Anche Cernobbio colpito dal maltempo, vi siete fatti un'idea di cosa è successo ieri sera alle 20 più o meno? Si, si è staccato un pianore di terra e ha invaso la casa che abbiamo qua alle spalle Fortunatamente non ci sono stati feriti e vittime, che è la cosa che mi preoccupa di più, mi angoscia di più Certo che mette in luce per l'ennesima volta l'equilibrio instabile, idrogeologico di tutta quest'area e di tutto il nostro territorio Bisogna mettere in campo opere che per troppo tempo non sono state fatte Noi vediamo dell'acqua che sgorga da un muro di cemento e arriva qui in questa valle Adesso andranno fatte ancora delle ulteriori verifiche Quello che posso dire è che in tutta quest'area l'acqua si accumula, scola senza dei percorsi predefiniti E tende poi a creare dei danni È già successo in aree qui adiacenti quando c'è stata la bomba d'acqua di qualche settimana fa Certo non in modo così grave E si è ripetuto adesso, probabilmente proprio il terreno intriso però a un certo punto ha ceduto Voi abitate vicino alla casa colpita dalla frana? Praticamente sotto Ecco, cosa è successo ieri? Beh niente, cos'era? Le 8, più o meno verso le 8, più o meno 10 abbiamo sentito un botto E poi immediatamente dopo una signora che chiedeva aiuto Siamo usciti per renderci conto di capire cosa stava succedendo La vostra abitazione non è stata toccata? No, per il momento no, però tutta questa fascia è a rischio Perché visto la situazione qua sopra mi sembra che ci siano tutte le premesse per aspettarci qualcosa di non tanto piacevole Abbiamo intervistato il sindaco, lui stesso dice che vanno fatte delle verifiche per come sono state e dove sono state costruite alcune abitazioni Comunque i permessi sono stati rilasciati penso dall'ufficio tecnico comunale Non so se poi vogliono fare delle verifiche per vedere che non ci siano altri rischi in corso Questo mi sembra che sia dovuto a chi abita nella zona Grazie 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 Grazie